Fiat Ducato. Resistente a tutto. Ampio spazio per qualsiasi carico. Sponde solide e all'occorrenza ribaltabili. 45 versioni, benzina, diesel, turbodiesel. Dal Ducato Panorama, 8 poltroni di prima classe, reclinabili, all'agile Ducato 10 quintali, al 14 gran volume. Vano di carico utilizzabile in lungo, in largo e a tutta altezza. Porte scorrevoli per un facile carico e scarico. Ducato è riposante anche nei lunghi viaggi. Ha un consiglio, se volete un Ducato andate dal concessionario Fiat, è più semplice.